Musica Per la guida ai campionati siamo con Mr. Tom Mr. Mazzucato che sentiamo dopo ha detto innanzitutto che ha fatto i complimenti al Vittorio Avento su due aspetti squadra che sa giocare a calcio e che non molla fino all'ultimo di contro noi diciamo che manca qualcosa in più negli ultimi 16 metri intanto buonasera a tutti e ti ringrazio per questa occasione qualcosa sicuramente manca però c'erano stati anche dei segnali positivi nelle ultime due partite eravamo andati in gol due volte quindi con tutta la fatica che sappiamo che facciamo eravamo riusciti comunque ad andare in rete a Vigonza ci eravamo andati vicini secondo me anche con la godigese ancora prima di che loro dilagassero quindi sì abbiamo delle difficoltà però non è che non riusciamo proprio ad arrivarsene alla conclusione anche oggi ci siamo arrivati in maniera forse un po' scomposta un po' frenetica però il risultato poteva essere tranquillamente diverso ringrazio il mister Tiziano Mazzucato per quello che ha detto che fa sempre piacere sono convinto che alla fine i lavori paghi e quindi bisogna continuare su questa strada cercare di produrre gioco e di guadagnarsi qualcosa in più era una partita che si sapeva su equilibri si giocava su equilibri sottili una giocata a loro importante ha rotto l'equilibrio e non siamo riusciti a raddrizzare ha giocato un interessante 98 che è Amadio il quale ha fatto bene poi l'hai sostituito nel finale per allargare gli spazi e tentare l'assalto finale rischiando un po' dietro diciamo anche che non è fortunato questo Vittorio Veneto che ha colpito anche una traversa sì ripartiamo da Matteo Amadio che è un altro ragazzo del nostro settore giovanile che si è comportato bene aveva già fatto un breve esordio a Cornuda ancora tempo fa e dopodiché ha avuto una serie di contrattempi per cui non ha più potuto allenarsi diciamo con continuità ogni volta che cercavano di portarlo durante la settimana in prima squadra ha avuto piccole influenze, un problema, un dito ha avuto diversi contrattempi che ne hanno rallentato secondo me la crescita però ultimamente quella junior la stava facendo bene è un ragazzo che ripeto sto monitorando dall'inizio è molto interessante, ha delle qualità e gli faccio i complimenti per la prestazione è un po' stanco poi e quindi l'ho levato per quello e cercare un po' più spinta sull'episodio della traversa ripeto quello che ho già detto visto così se Luca forse lasciava cadere un attimino penso potesse colpire la di testa poteva avere un po' di calma in più per concludere insomma e quindi ma quello è l'episodio noi non possiamo soffermarci sugli episodi noi dobbiamo lavorare per limare i nostri errori e per veramente concretizzare il volume di gioco che facciamo dopodiché i risultati arriveranno io ne sono sicuro grazie mister grazie a voi Siamo con mister Mazzucato mister un saonara che porta a casa tre punti oggi si solleva bene in classifica che è più o meno a metà in questo momento come giudica la prestazione della sua squadra? Il risultato è importantissimo perché oggi era una sfida a salvezza i punti valevano doppi abbiamo vinto 1-0 abbiamo sofferto gli ultimi 20 minuti perché sinceramente i primi 60 minuti è stata partita equilibrata con poche occasioni nessuno aveva voglia di perdere ci siamo scoperti poco tutte e due le squadre poi siamo andati in vantaggio con una bella azione di Ballin che ha crossato su tutto il lato e ha fatto gol e poi là siamo andati un po' in sofferenza ma presumo anche una sofferenza normale perché la squadra il Vittorio Benedetto che sappiamo che è una squadra che gioca molto bene a calcio le ha provate tutte noi se facevamo giusto un contropiede potevamo andarla a chiudere abbiamo sbagliato qualche contropiede è giusto soffrire fino all'ultimo no minuto l'ultimo secondo proprio e quindi per noi è una vittoria incredibile per i nostri obiettivi che sono dall'inizio all'anno come ne ho promossa e come squadra che tutti all'inizio all'anno ad agosto dicevano la sicura ultima ci stiamo togliendo soddisfazioni adesso mancano ancora decini di punti con la salvezza dicevi proprio della ripresa una sonora che comunque non ha proprio disdegnato di attaccare come dicevi no e allora sinceramente se avete visto dopo sono rimasti gli ultimi 20 minuti con una punta perché ovviamente il mister il bravo mister il Vittorio Veneto aveva messo gente molto esterna molto alta e noi se facciamo giusto un contropiede se ormai la chiudevamo prima però se non fai giusto i contropiedi ci hanno messo là gli ultimi 20 minuti ci hanno messo nel nostro area di rigore poi nel calcio sapete com'è la fortuna conta e oggi sono stati più fortunati noi e meno fortunati il Vittorio Veneto però penso che non abbiamo rubato niente però non avrebbe rubato niente neanche il Vittorio Veneto se pareggiava quelle partite sono così vediamo il campionato dalla prima giornata c'è un equilibrio incredibile e sappiamo che a 28 punti noi siamo abbiamo gli stessi punti differenze play off e play out quindi è una cosa stranissima infatti proprio dicevi degli obiettivi del Saonara resta comunque ovviamente chiaramente aperta anche il discorso salvezza comunque no no noi abbiamo tre obiettivi ben chiari ad agosto quando siamo stati ripescati il 6 agosto abbiamo tre obiettivi chiarissimi primo era evitare l'ultimo posto poi una volta fatto quello evitare i play out e dopo il terzo è evitare andare salvi direttamente vi do' essere sinceri noi siamo noi siamo questi un gruppo di ragazzi eccezionale però insomma penso che oggi bisogna dare merito anche a Vittorio Veneto che è vero che forse non sta avendo tanti risultati però penso che i tifosi che c'erano oggi hanno visto fino all'ultimo un secondo non mollare insomma quindi vabbè noi abbiamo vinto però devo fare i complimenti del mistro avversario perché dopo perdere oggi è una sconfitta pesante però avete visto i giocatori del Vittorio Veneto che hanno lottato su ogni palla fino all'ultimo secondo quindi penso squadra giovane che ha tanta voglia di esprimersi al meglio insomma per noi 28 punti arriviamo a 40 prima possibile e poi mi vedrai sorridere grazie mister grazie grazie a te buon lavoro grazie a te